Davide Veglia non poteva augurarsi un epilogo migliore per la sua prima stagione vissuta nella compagine societaria del Cesena. La promozione in Serie C sarà la pietra migliare su cui costruire tanti altri successi futuri. È stata una stagione importantissima, li ha visti i protagonisti e ha reso tutte le aspettative che potevano avere le persone intorno e quelli che ci lavoravano dall'interno. Quindi un momento bellissimo secondo me. A margine del campionato vinto dalla squadra bianconera, l'imprenditore italo-americano si è reso protagonista di un gesto di generosità che sarà particolarmente apprezzato dai giocatori del Cesena, omaggiati di una bici elettrica per il traguardo ottenuto. Sì, è un simbolo che secondo me è legato a quelli che sono stati gli sforzi di una stagione dove hanno dovuto pedalare e faticare per diversi mesi, arrivando poi al traguardo da vincitore. E questo è il momento di schiacciare quel pulsante del motorino elettrico e proseguire il viaggio. Ci sentiamo onorati perché la World Dimension è stata scelta come fornitore per premiare questi ragazzi. Lo hanno fatto in maniera bella, in maniera simpatica. La bicicletta a pedalata assistita è una bicicletta che comunque è un messaggio importante di sostenibilità ambientale, un messaggio che va dato anche a questi ragazzi che hanno pedalato per tutto l'anno, che comunque da ora in poi speriamo che pedalino con una pedalata un po' assistita. È molto bello vedere come sia stato scelto un premio di rispetto dell'ambiente. Grazie a tutti.